Dopo gli ottimi risultati conseguiti durante i mesi estivi, l'Ente delle Riserve Naturali Regionali del Litorale Tarantino Orientale di Manduria ha deciso di ampliare il periodo di attività, programmando d'aprile a giugno ben 23 iniziative. Primavera in riserva, questo è il nome del programma che nasce dalla sinergia delle diverse realtà associative del territorio che sotto la direzione di Alessandro Marigio contribuiranno a rendere viva la riserva con ciclo escursioni, escursioni in barca, iniziative che mirano alla scoperta delle bellezze del territorio ma che allo stesso tempo educano all'amore e al rispetto dell'ambiente. Alla conferenza stampa di presentazione, il responsabile della Regione Puglia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, dottoressa Barbara Loconsole, ha avuto parole di apprezzamento per l'attività che la riserva manduriana svolge con estrema professionalità che trae forza dalla contagiosa passione per la natura e la propria terra. È importante quello che si sta facendo qui sul territorio di Manduria? Sì, è il punto di partenza per cominciare a fruire realmente delle aree protette, per farle vivere, perché la Regione fino ad ora ha investito moltissime energie per istituire le aree protette e per consentire, diciamo, dare gli strumenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del territorio. Però la reale valorizzazione e conservazione e tutela si fanno con la fruizione. Quindi far vivere un parco significa organizzare, far conoscere e coinvolgere, perché alla fine, come ha detto il dottor Marigio, il coinvolgimento di tutti consente anche protezione delle aree protette che hanno bisogno in questo momento di essere conservate e protette. Il progetto sarà anche aperto alla collaborazione di Ugento. Quello che stiamo cercando di sviluppare è proprio la collaborazione fra le aree protette per ottenere i migliori risultati e condividere, perché la condivisione, la conoscenza è l'obiettivo che ci proponiamo come Regione anche. Alcune iniziative si tengono anche in collaborazione con il mondo della scuola a cui l'amministrazione comunale si rivolge. Scarti volanti, sì, sì, sì. Tutti gli oggetti raccolti nel parco naturale, nelle riserve, vengono utilizzati, portati nelle scuole e creati degli aquiloni, ecco perché vengono chiamati scarti volanti. Quindi è già un'educazione a riciclare e a riutilizzare, insomma, i rifiuti. È importante partire dalle scuole, è importante partire dai bambini, perché i bambini sono il primo veicolo di educazione dei grandi, di noi adulti. Per questo c'è anche, sono stata qui in questa conferenza con Alessandro Marigio come direttore delle riserve, proprio perché abbiamo condiviso insieme anche un progetto, un progetto che si chiama Open Land, che parte proprio dalle scuole, soprattutto per i più piccoli, dove questo progetto appunto invita le scuole a visitare i parchi, naturalmente con varie attività ludico-ricreative delle quali si occupano comunque le associazioni preposte, con gente comunque molto competente e molto simpatica e umile, quindi molto vicina alla gioia dei bambini. Questo progetto è partito l'anno scorso e ci sono stati bei risultati, però questi risultati sono ancora più belli quest'anno, perché ancora prima di farlo partire abbiamo già 30 adesioni, le adesioni di 30, sì. E tra l'altro c'è anche da specificare che Alessandro Marigio è stato così bravo che è riuscita ad avere delle pubblicazioni del nostro territorio su Puglia per le scuole e IRIS, che sono praticamente dei testi presenti in tutta la nazione di tutti i bimbi, quindi ci sono queste foto, delle riserve naturali e quant'altro. Il messaggio è quello di vivere la nostra riserva naturale? Di vivere la nostra riserva naturale, ma soprattutto l'educazione al rispetto della natura, quello, quella è la cosa principale, perché le nostre bellezze sono sicuramente infinite, quindi sarò di parte perché non lo so, sono del territorio, però è soprattutto educare i bambini al rispetto della natura, partendo da riciclo e dal toccare proprio con mano con il progetto Bellend, con la natura. Annunciata infine la presenza presso la fiera Pessima con uno stand in collaborazione con l'ufficio informativo e di accoglienza turistica IAT di Manduria e la realizzazione di un convegno, tesori nascosti del Salento, ambiente, cultura e turismo nel viaggio tra i due mari. Alle spalle il grande successo delle passate esperienze e per la prima volta proprio dal basso, come si evinceva in conferenza stampa, nasce questo progetto che mira alla destagionalizzazione della riserva e delle bellezze naturali di Manduria. Certo, vogliamo proprio arrivare a questo, cercare di lavorare tutti e dodici mesi l'anno, perché il tempo ce lo permette e anche le strutture ormai con la Casa del Pacco Masseria Marina quindi sono di supporto a questo, gli operai che sono il braccio logistico delle riserve quindi abbiamo pensato proprio ed è fortemente stato voluto dalle associazioni stesse l'anno scorso con le ottime esperienze dell'Open Days, i tre mesi estivi di attività nelle riserve, abbiamo pensato insieme a loro durante la verifica fatta alla fine dell'Open Days anche con la Regione proprio di promuovere, iniziare a promuovere le riserve raddoppiando l'offerta turistica quindi passare dai tre mesi estivi anche ai tre mesi primaverili. Quindi già con questo fitto programma che partirà ai primi di aprile ci terrà impegnati per ben sei mesi di attività e già l'altro giorno abbiamo fatto la riunione in Regione per coordinare e quindi per capire l'offerta turisti anche di quest'estate, perché siamo in grado ormai con l'esperienza di anticipare un po' i tempi anche per permettere una promozione a livello regionale delle nostre attività, del nostro territorio che sia quanto più gratificante possibile per il nostro territorio. La cosa bella di questo progetto è proprio quello che diceva lei, la pianificazione dal basso, cioè è stato fatto questo lavoro che è stato un lavoro corposo perché ci sono quasi 15 associazioni che sono presenti in questo progetto quindi mettere insieme tutti non è stato certo facile però ci ha dato tanti spunti anche di confronto fra noi stessi proprio per crescere, per far crescere il territorio prima di tutto come conoscenza. Se c'è la conoscenza impariamo a valorizzarlo e impareremo anche a promuoverlo nel miglior modo possibile. Ovviamente queste attività saranno aperte a tutti, io sarò veramente fiero se anche i nostri cittadini manduliani prenderanno parte proprio per conoscere e per scoprire il territorio ma saremo aperti anche e soprattutto a tutta la regione e a tutta Italia. Dalle esperienze abbiamo avuto anche l'anno scorso delle comitive di russi, di inglesi quindi con i canali anche grazie a Puglia Promozione che è partner del progetto ovviamente loro fanno promozione della regione Puglia a livello internazionale quindi dobbiamo adesso anche prepararci ad accogliere i turisti anche di certa qualità nel nostro territorio quindi questa è la nuova sfida che abbiamo come riserve ma come territorio.